Wella amici, benvenuti nel nuovo video, è l'ennesimo video dedicato agli easter egg di Just Chaos 3. In questo caso ci troviamo dinanzi a quello che personalmente io trovo uno dei più bei easter egg, ma probabilmente perché mi piace Doctor Who. Avete sentito bene, Doctor Who. Perché adesso andiamo dagli angeli piangenti. Che ne dite? Ci facciamo una cappatina? Andiamo dai. Ah sì, giusto, dove ci troviamo? Allora, qui ad esempio, se non avete ancora liberato queste zone come in questo caso, qui in Montana, in Refugio Umbra, che basta arrivarci per sbloccarlo, potete trovare tutti i velivoli e viaggiare fino al confine tra Grande Pastura e Falco. Esattamente qui. Bene. Guardate, guardate queste statuine. Ed ecco che iniziano a giocare con noi. Come sono solite farle le statuine di Doctor Who. Ovviamente queste non ci uccidono, ma ci fanno solamente cagare un po' addosso, ma comunque... Infatti ecco che sono mosse... E... Pare che non vogliono più muoversi. Ma a noi va bene anche così, no? Morire, pezzi di merda. Pezzi di merda. Ehi, ciao. Lo sai che sei bellissima? No? Non te l'ha mai detto nessuno? Oh oh. Ok, e quindi grazie per la visione. Aspettate altri easter egg.